Buonasera e benvenuti a Deloio, il platform, cioè il film basco della competizione del 37esimo Torino Film Festival. Allora di questo film in realtà si può dire pochissimo prima che lo vediate perché è da un lato un thriller ma è anche un incrocio, può essere anche considerato una specie di fantascienza orwelliana, è una metafora e comunque c'è una progressione, thriller per cui cercherei di rivelarvi il meno possibile, tranne una cosa che il regista ha già detto mentre faceva l'intervista qui fuori, che comincia con due personaggi in un carcere al centro della quale c'è un buco, sostanzialmente un scavo, attraverso il quale ogni tanto passa una piattaforma calante piena di cibo. punto, non vi diciamo altro, è un film, allora appunto, Orwell, l'orwelliano ve l'ho già citato, la metafora ve l'ho già citata, io direi da un certo punto di vista visivo e narrativo, potremmo anche considerarlo un incrocio tra Bosch, visivamente, e io ci metterei però anche Samuel Beckett, soprattutto nei dialoghi degli due straordinari protagonisti. vi presento l'autore, opera prima, Basco, praticamente impronunciabile, lo pronuncerò malissimo, è Gardel Gazelu Urrutia Munisca. grazie, grazie per essere venuti, grazie per 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 venuti, è un enorme ringraziamento al festival, questo festival così importante, con una storia così grande e importante, è un grande honor, è un grande piacere. grazie. bene, dopo la proiezione saremo qua per parlare del film, sarò io e anche, non ho detto il nome, la scenografica, la vostra cosa. a Seguinio Ur geometria parleremo del film e risponderemo alle vostre domande. bellissimo, grazie più e dopo buon divertimento a tutti